salve a tutti in questo video vi illustrerò uno dei miei dipinti il suo titolo è il mondo in cammino è stato creato ad incausto e colori ridescenti creati personalmente racconta il viaggio dell'uomo attraverso il tempo dall'antichità fino ai giorni nostri il mondo in cammino il tema di questo dipinto è un viaggio attraverso l'arte dall'antichità a oggi partendo dalla rigogliosa venere che richiama la fecondità del periodo paleolitico approdiamo allo sterile taglio di fontana l'arte ha sempre occupato un posto di grande importanza ma gli scopi che gli artisti si sono posti sono stati più diversi ad esempio quello di illustrare documentare per far partecipare chi guarda l'opera d'arte per promuovere celebrare diversi ruoli nella società ribadendo ad esempio gerarchie per legittimare un potere raccogliere consenso intorno ad esso l'arte ha avuto uno scopio propiziatorio ha convinto ha spiegato e ha sedotto il dipinto che vedete è visto come un'allegoria del cammino della vita al periodo paleolitico risalgono le figurazioni sintetive intensamente espressive di animali selvatici graffiti dipinti sulle pareti sulle volte delle grotte naturali con finalità magica propiziatori come le formose veneri l'uomo inizia a rappresentare se stesso la propria compagna i propri figli il proprio gruppo sociale con sempre un maggior realismo dovuto ad una sempre più evidente conoscenza di sé e degli altri l'arte e la cultura egizia esprimono il sentimento religioso invece di un popolo ha sostenuto da un forte attaccamento alla tradizione la divinità per l'egizia è fondamentale sono fedeli alla loro idea di figura umana per tutta la durata della loro storia artistica utilizzando ad esempio precise regole di rappresentazione vise gambe e braccia sono rappresentati di profilo mentre l'occhio e il busto di fronte l'arte greca invece è la celebrazione del bello come il segno equivalente del buono e come indice di una natura divina o semidivina il corpo nudo è rappresentato atletico e dimostra la propria virtù capacità di trionfare appunto il corpo dell'uomo come atleta e come eroe e la figura umana diventa la misura di tutte le cose e la più prossima alla perfezione ideale può essere assume anche nell'armonia delle proprie forme l'infinita armonia del cosmo al contrario dei greci pur partendo dalla loro arte romani sono un popolo però molto più pratico che produce opere di ingegneria civile come strade ponti acquedotti cittadini romani sono militari e politici ogni loro attività è dunque finalizzata ad esigenze di dominio sia privato che statale loro prediligono gli aspetti tecnici e pratici oppure celebrativi come avviene ad esempio nella colonna traiana celebrativa dell'imperatore attraverso un rilievo storico che col suo carattere narrativo continuo fu la primavera manifestazione di uno stile romano l'arte quindi uno strumento del potere per il potere e questa fascia si snoda pensate a spirale per più di 200 metri sulla superficie di una colonna vengono narrate quindi le vicende della guerra vittoriosa dei romani sui daci caduto però l'impero romano l'unica forza anitaria di riferimento sarà il cristianesimo e anche nell'espressione artistica lascerà un segno inconfondibile tutta l'arte fino al rinascimento trova proprio soggetti nella dottrina cristiana questo periodo è caratterizzato dall'arte ravennate bizantina franca longobarda ottomana sveva romanica gotica nel 400 l'uomo scopre però poi la bellezza del corpo umano e scopre che come la natura abbia un fondamento matematico e sia basata su precise regole e proporzioni il maggior rappresentante di questo pensiero sarà sicuramente leonardo da vinci di quest'anno celebriamo 500 anni dalla morte è lui che ci racconta dei moti degli anima è lui che ci parla di un'interiorità celata nell'esteriorità l'uomo è per lui quella cosa che contiene in sé più universalità e varietà di cose l'uomo eroe dominatore è nodo e raccordo tra gli elementi della natura e qui lo vediamo l'uomo il suo uomo vituvriano iscritto nel cerchio e nel quadrato però se guardate attentamente i due centri non coincidono il periodo del manierismo poi prima insomma il barocco successivamente tenta di escludere però dalla ricerca al bello per puntare invece al vero e finora i canoni e l'anatomia avevano convissuto insieme e i canoni perdono praticamente importanza non esistono più regole l'artista è creatore delle proprie regole le sue figurazioni degli artisti insomma le loro figurazioni sono metà strada tra la luce della grazia e l'ombra del peccato triunferà una grande sensualità come modello diventeranno i poveri quelli veri che faranno la comparsa per animare anche scene di vita di santi e beatificazione passando poi per il periodo neoclassico e romantico ci si avvia sempre più verso la realtà sociale e la natura nell'ottocento l'impatto realistico il riferimento alla realtà si fa sempre più forte l'artista riesce a fare a meno giustificazioni religiose e anche mitologiche i movimenti del novecento furono generati però tutti da un clima di profondo travaglio culturale sia sociale che morale e da grandi crisi politiche che portarono a grandi conflitti e guerre l'arte si sfalda suddividendosi in molteplici direttrici indipendenti riflettendo comunque il disorientamento che la psicanalisi ad esempio aveva portato nel panorama culturale la scoperta di una geografia dell'anima all'inizio del secolo di regioni sommerse nascoste oscure incontrollabili come l'inconscio smuove le fondamenta di ogni certezza lo stesso la teoria della relatività i punti saldi su cui si era fondata la società vengono meno dissolvimento definitivo di questa armonia della proporzione della simmetria della prospettiva che pensata aveva imperato per 500 anni l'espressionismo ad esempio si pone in linea con il fovismo e si fa interprete dell'angoscia dell'uomo lo vediamo ad esempio nell'urlo di munch ma il peso della tragedia più grande della guerra della prima guerra mondiale e ci presenta corpi deformi e tutta la sofferenza dell'uomo questo vedere interno che gli espressionisti oppongono polemicamente al vedere esterno della realtà promosso dai realisti e dagli impressionisti il corpo pur conservando aspetti di riconoscibilità è solo un pretesto per esprimere l'interiorità e i suoi fantasmi il quadro Guernica di Picasso è la risposta più esplicita alle atrocità commesse Guernica è il primo deciso intervento della cultura nella lotta politica d'ora in poi gli intellettuali eserciteranno una forma di pressione sempre più forte sui governi laddove la democrazia viene spesso calpestata ed è in pericolo in Guernica non c'è colore solo bianco grigio e nero non c'è rilievo eliminare il rilievo il colore significa tagliare il rapporto dell'uomo con il mondo significa che non c'è più natura non c'è più vita da lì invece si rifugia in un altro mondo surreale e la persistenza della memoria raffigura una terra deserta dominata dalla presenza di orologi molli dalla consistenza quasi fluida simboli dell'elasticità del tempo gli astrattisti tolgono invece ogni riferimento alla realtà procedono in maniera totalmente autonoma rispetto alle forme reali e per Pollock con l'informale il mondo appare senza via d'uscita la vita è un labirinto dove nessun filo di aranna lo aiuterà a ritrovare la strada e lo condurrà fuori da esso in un luogo sicuro non porto tranquillo il groviglio della matassa è troppo intricato ed essa non si dipana i concetti spaziali attese invece di fontana ricercano la terza dimensione egli lavora con tagli verticali e con i buchi offrono la possibilità di mettere in relazione la superficie della tela con lo spazio lo spazio è una propria fisicità è materia è una superficie attraversata dalla luce l'attesa è il tempo dell'assenza che presuppone un presente e anche un futuro si apre la strada ad un'arte quindi concettuale l'operazione artistica consiste nello sfondamento della tela attraverso un taglio creato nella materia la tela ad essa è lacerata da uno o più squarci verticali che invece di indicare distruzione suggeriscono piuttosto delle possibili aperture verso un'altra dimensione che sia una via di fuga dunque il taglio di fontana ci invita a riflettere perché quella appunto non è una ferita ma un'apertura verso l'altrune verso un'altra dimensione